Musica Ci troviamo oggi nel parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. La nostra meta è il lago Sorapis e prendiamo il sentiero ora 213 per dirigerci verso la forcella Maracoira, partendo dal passo Trecroci. Grazie per la visione! Siamo arrivati a quota 2129, ora noi proseguiamo per il sentiero 216 verso la forcella Maracoira. Alle mie spalle potete vedere le bellissime Dolomiti ampezzane. Musica Si inizia a salire verso la forcella. Il sentiero si fa ripido, ma noi ce la faremo. Musica Siamo arrivati alla forcella. L'ultimo tratto di sentiero è davvero ripido. Ora noi proseguiamo verso il lago Sorapis. Da questo punto il paesaggio è davvero magnifico. Musica Musica Qui un breve ma facile tratto con cordino metallico. Musica 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 Il sentiero ora è in discesa, siamo quasi arrivati e alle mie spalle potete già vedere il lago con un bel azzurro turchino. Al termine della discesa ora prendiamo il sentiero 215 che in breve ci porta al lago Sorapis e all'omonimo rifugio. Siamo arrivati alla nostra meta, il lago di Sorapis, come potete vedere è di un bel turchese, siccome sono quasi le due ci dirigiamo verso il rifugio Vandelli al Sorapis e speriamo, veramente speriamo, di trovare un buon e abbondante cibo. Impossibile entrare al rifugio, c'è troppa gente, quindi dobbiamo accontentarci di un semplice yogurt. Lasciamo il rifugio e facciamo ritorno al passo Tre Croci attraverso il sentiero 215. Il primo tratto in discesa è il sentiero attrezzato con cordino metallico e a tratti anche esposto. Bisogna fare molta attenzione soprattutto se piove perché diventa scivoloso. Dopo un'ora e quaranta dal rifugio abbiamo fatto ritorno al passo Tre Croci e concluso così il nostro giro ad anello. L'ultimo tratto di sentiero è comodo e in continuo saliscendi. Ci vediamo al prossimo giro. Grazie a tutti.